Partita da ricordare al Palasportestra per l'AMMBC Servizi Arezzo, che ha coronato una splendida rimonta battendo lo Spezia, bestia nera delle ultime stagioni. Buon inizio partita per la SBA che si porta subito sul 7-3. La reazione degli ospiti però mette in serie a difficoltà il quintetto a Amaranto. Lo Spezia infatti comincia a segnare da tutte le posizioni. Alla prima sirena il vantaggio dell'Iguri è di 33-20 ed il secondo quarto inizia allo stesso modo come era finito il primo, con lo Spezia a trainare la partita. Il momento negativo dell'AMMBC Servizi ha un grande merito, quello di non crollare anche perché Jankovic è in serata speciale e le sue triple abbinate ai liberi di rossi riportano gli Amaranto vicino alla doppia cifra di svantaggio e quando toglie in penetrazione sulla sirena di fine secondo quarto segna l'appoggio del meno 12, la partita sembra poter cambiare. A rientro dagli spogliatoi i segnali mandati dai ragazzi di coach evangelisti in precedenza si tramutano in una difesa che chiude ogni spazio agli avversari. A fine terzo quarto la rimonta è completata. La vera arma in più degli Amaranto è la difesa completamente trasformata rispetto ai primi 20 minuti. Ad un minuto e mezzo dalla fine la SBA si porta anche sul più 11 prima che un paio di palle perse permettano ai Liguri di chiudere la partita sotto di 6, 87 ad 81. Dopo una partenza da incubo dunque la SBA è brava a rimettersi in carreggiata e a portare un altro risultato positivo davanti al pubblico amico del Palace Porta Estra che a fine gara ha applaudito e convinto la squadra di coach evangelisti. Adesso dopo questo successo l'Ambi in BC Servizi è attesa da un doppio turno esterno. Prima mercoledì a Castelfiorentino nel turno infrasettimanale, poi domenica a San Mignato. Allora, innanzitutto devo ringraziare i miei compagni perché lo meritano loro questi 22 punti. Questa partita per noi era una finale importantissima e la meritiamo. Nella fine abbiamo vinto, all'inizio siamo partiti un po' male male, però alla fine abbiamo recuperato e abbiamo fatto vedere che ci siamo e che siamo nella strada giusta. Sì, sicuramente all'inizio magari non abbiamo aggredito la partita come avremmo dovuto fare, complice un po' questo, un po' le loro percentuali molto alte, comunque i primi due quarti, abbiamo fatto sempre canestro, abbiamo iniziato un po' in difficoltà, abbiamo giocato bene in attacco, siamo rimasti vicini alla fine, mi sembra 53-40, stava a metà partita e rientro dagli spogliatoi abbiamo mantenuto una maggiore aggressività in difesa, loro hanno iniziato a sbagliare qualche tiro anche magari grazie alla nostra difesa e abbiamo preso fiducia e questo è stato il fattore determinante alla fine della partita.